buonasera buonasera amiche ed amici buonasera e benvenuti ad una nuova puntata un nuovo capitolo di cuore d'inchiostro la trasmissione da scrittore a scrittore come uso dire sempre io questa sera abbiamo una trasmissione ancora diversa ed è bellissimo perché poi facendola mano a mano che andiamo avanti mi rendo conto che stiamo toccando sempre argomenti diversi questo è veramente molto bello e poi è completamente casuale ve lo dico e stasera tocchiamo uno degli argomenti che mi sta più a cuore in assoluto per il mio background per la mia vita e che non avevamo mai toccato che è quello della musica e lo facciamo ospitando uno scrittore ternano che è francesco patrizi buonasera francesco grazie gialluca buonasera grazie a te di essere venuto con noi francesco facciamo una piccolissima regressione perché in una trasmissione da scrittore a scrittore la trasmissione in cui si parla di libri tu fai il lavoro più bello del mondo lavori in una biblioteca giusto non entriamo troppo in dettaglio perché non ci piace quella parte personale però lavori in biblioteca quindi dovete sapere che quando ho conosciuto francesco ci siamo presi il solito caffè pre trasmissione praticamente tutti i libri di cui parlavo li conosceva perfettamente quindi diciamo il suo lavoro giusto come mi hai detto io lavoro lì e quindi è bellissimo quindi io non ti chiedo altro ti chiedo però questo come nasce la tua passione sia per la scrittura sia per la musica perché il tuo libro è questo lo facciamo vedere a favore delle camere è un libro su lucio battisti però un lucio un po' particolare poi ne parleremo si chiama si intitola lo spleen di lucio giusto e quindi come nasce la tua passione per la scrittura e per la musica contemporaneamente ma guarda per la musica rispondo subito penso come te come tutti quanti fa parte della nostra formazione da bambini cioè io avevo i miei genitori mamma che stava sempre con la cassetta spesso di battisti messa quindi lei e quindi già da quando percepivo suoni e li riconoscevo intorno ai tre quattro anni sentivo questa musica qua quindi ci sono cresciuto non so adesso le nuove generazioni se hanno la stessa formazione dubito ma sicuramente la qualità è decisamente peggiora a livello musicale la qualità e oggi saluti con le cuffiette dall'epoca sentiva la musica per casa e quindi questo non accade più e quindi questa è una cosa che è cambiata sociologicamente per la scrittura ma quella ce l'ho sempre avuta una cosa che non mi sono mai domandato perché semplicemente piace scrivere e quindi alla fine pubblicato questo libro pubblicato questo libro e perché tutti conoscono il battisti di giardini di marzo acquazzura acqua chiara e bravo bravo io stesso come musicista facendo piano bar la prima sera di piano ballo fatta che avevo 16 anni e mezzo battisti insomma battisti mogolle erano diciamo una parte abbastanza importante il mio repertorio e però c'è un altro battisti un altro battisti differente che il battisti di fine carriera che purtroppo ha coinciso con il fine vita nel caso suo e e questo è un battisti particolare allora prima di fare qualsiasi cosa mirko liodori ci spiega in un brevissimo brano chi è questo battisti poi torniamo e vi dico anche che cos'è questo brano quando don giovanni discese verso l'onda sotterranea e allora che ebbe dato il suo obolo a caronte un cupo mendicante l'occhio fiero come antistene con braccio vendicatore forte afferrò i remi mostrando i loro seni pendenti le loro vesti aperte le donne si concentravano sotto il nero firmamento e come una grande mandria di vittime offerte dietro di lui strascicavano lungo mugito sganarello ridendo reclamava i suoi stipendi mentre don luis con un dito tremante mostrava tutti i morti vaganti sulle rive il figlio sfrontato che schernì la sua fronte bianca brividendo sotto il suo lutto la casta e magra elvira accanto allo sposo traditore che era stato il suo amante sembrava reclamare un supremo sorriso in cui brillasse la dolcezza del suo primo giuramento ritto nell'armatura un grande uomo di pietra stava alla barra del timone e tagliava il flutto nero ma l'eroe calmo curvo sulla sua spada sottile fissava la scia e non si degnava di guardare altro abbiamo ascoltato un mirco della box devolution i nostri amici della compagnia teatrale corsi di teatro doppiaggio e quant'altro che ci ha letto don giovanni all'inferno tratto appunto da i fiori del mali di bottler e questo per dare subito un'idea di quale battisti andremo ad analizzare il battisti che molla mogol ha un intermezzo come mi spiegavi e come ho trovato con la moglie in qualche situazione poi però si affida a chi a pasquale panella che diciamolo subito è un artista molto eclettico e non si può chiaramente ridurre alla collaborazione con battisti che ha fatto tantissime cose panella però ho notato che panella non scrive in questo modo sempre quindi battisti che gli ha chiesto chiaramente un certo stile e quello che ha fatto è il motivo per cui ho scritto il libro poi sai ha fatto una sorta di indovinelli cioè entrate dentro a questi dischi sforzatevi cercate di di carpire gli indizi che vi do e entrateci dentro sono stati cinque album giusto il primo adesso la regia ci manda la foto il primo è don giovanni da cui ha preso poi perché poi tutti questi brani che noi leggeremo che ci hai segnalato tu eccoli sono questi copertine tutte uguali tutte stranissime fatte da lucio sì questa dipinta da lui si vede molto molto sicuramente molto particolari e ho trovato su questa storia una ti leggo alcune cose perché ho trovato delle cose abbastanza importanti e c'è un articolo di un critico musicale che non cito chiaramente e che dice testualmente la rivoluzionaria collaborazione con il pano con il paroliere pasquale panella rappresenta un viaggio che ancora oggi resta unico e difficilmente ripetibile l'ultima vera avanguardia che la musica italiana ricordi non so se concordi insomma ma guarda devo dire musicalmente l'avanguardia un'altra cosa però devo dire che fare quei testi lì così ostici così difficili però stesso tempo così suggestivi per cui battisti e panella hanno offerto al pubblico dei battistiani ma anche un pubblico nuovo l'opportunità di sentire delle canzoni che se le capisce le godi o che ho fatto io insomma ci entri dentro le scavi e scopri cosa vogliono dire va bene ma altrimenti sono talmente suggestive che le ascolti lo stesso ti piacciono lo stesso anche perché è un momento duro no perché per battisti in quel momento si rompe la collaborazione comogol definitivamente taglia e c'è uno strappo che è un po generale poi sai no tutto quello si è discusso su battisti tutto ciò che si è detto lui strappa un po con tutti cioè non è che strappa solo comogol strappa con il mondo io ho trovato questa definizione che scusa questa dichiarazione che viene indicata come l'ultima vera forte dichiarazione di battisti con il pubblico che forse dà un po una spiegazione francesco di tutto quello che è e dice tutto mi spinge verso una totale ridefinizione della mia attività professionale in breve tempo conseguito un successo di pubblico ragguardevole per continuare la mia strada ho bisogno di nuove mete artistiche di nuovi stimoli professionali devo distruggere l'immagine squallida e consumistica che mi hanno cucito addosso non parlerò mai più perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro l'artista non esiste esiste la sua arte questo è una bomba cioè quando la leggi io poi la sposo in pieno perché in un mondo moderno in cui invece è tutta apparenza diciamo cioè non è che io faccio la morale a nessuno ma insomma parliamo prima dei gusti musicali attuali e il 90 per cento di questi è solo esclusivamente d'apparenza cioè questa è tanto forte ci spiega poi quello che io non dico più nulla basta lascio parlare della mia arte sai dirlo in un ambiente musicale come il suo quindi vendeva milioni di dischi chiaramente dire che l'artista non esiste quando il mercato è unicamente legato al volto dell'artista alla sua immagine costruita dalla casa estrografica chiaramente da un certo marketing dire che non esiste scomparire dire sentire solo la mia musica e basta non abbinatela al mio volto no è questa l'operazione rivoluzionaria che ha fatto battisti quindi scomparire totalmente senza però di negare il passato è perché quella poesia di baudelaire che abbiamo letto innanzitutto spleen tanti pensano che sia la malinconia non è la malinconia spleen è il sentimento che non ne vale la pena certo che è tutta la grande delusione e che in fondo non c'è spazio al mondo per l'ideale per la poesia e per chi vuole veramente realizzarsi nichilismo allo stato puro proprio lasci andare e dice a un certo punto coltivo solo i miei interessi per questo credo che lui nella ultima fase della sua vita che poi è morto a 55 anni abbia fatto questo tipo di scelta cioè rinunciare a milioni di dischi venduti e scegliere di venderne 70 mila 60 mila se si era quelli a una scelta sua però non è che non era capace di scrivere brani che vendessero milioni di dischi assolutamente sì e infatti poi dopo si va avanti si arriva al secondo disco di questi cinque che è l'apparenza e la regia ci può mandare la foto sempre della copertina come vedete sempre minimalista sempre estremamente semplice guardate anche bellissimo no perché comunque no e e ci andiamo ad ascoltare il secondo contributo che è la morte degli amanti sempre tratto da un'altra poesia di baudelaire e che ha ispirato un brano contenuto in questo album che è specchi opposti giusto mi hai spiegato quindi andiamo ascoltare il mirco di nuovo avremmo letti colmi di odori leggeri divani profondi come tombe e strani fiori sui piani schiusi per noi sotto cieli più belli consumando in una gara di desiderio i loro estremi ardori i nostri due cuori saranno due vaste fiaccole che rifletteranno i loro doppi lumi nelle nostre due menti questi specchi gemelli una sera fatta di rosa e di azzurro mistico ci scambieremo un unico lampo come un lungo singhiozzo tutto carico di addi e più tardi un angelo schiudendo le porte verrà rianimale fedele gioioso gli specchi appannati e le fiamme morte la il parallelismo dei due amanti perché lui dice che se i due amanti sono troppo uguali muore l'amore non bisogna somigliarsi troppo e questo è un l'ha preso come spunto per descrivere la sua scrittura panella cioè ha in mente una cosa da scrivere ma devi fare in modo che la cosa che ti sta davanti la tua idea di composizione si discosti un po e entri l'elemento casuale che sono tecniche anche usavano i surrealisti per cui entri il vario ed eventuale perché arricchisce e crea anche significati che tu non pensavi e cui non nemmeno avevi pensato e questo arricchisce l'opera perché poi l'opera giustamente su questo andiamo d'accordissimo se partirei una canzone crei un'opera crea quel testo lì ma poi va con le sue gambe e arriva anche dove non pensi che arriverà per cui tu pensa oggi ho conosciuto ragazzi di vent'anni che hanno scoperto queste canzoni come ci sono arrivati non lo so e l'hanno lette ognuno alla maniera sua ah certo no questo sicuramente se uno ascolta i testi cioè veramente stiamo parlando di cose veramente veramente profonde quindi su questa è la consonanza con Baudelaire e tu pensa veramente di tornando adesso a quello che è adesso no l'artista non deve somigliare alla sua opera esattamente il contrario di quello che accade quotidianamente poi arriva il terzo album e inizia il trittico in cui gli album vengono dedicati ad una donna o comunque una figura femminile ok e il titolo già si capisce se è la sposa occidentale adesso ce la mandano e è ispirato alla la donna di Baudelaire ho capito bene se ok quindi dimmi perché qui mi verdo nel senso che poi inizia a essere sai lui ha fatto una riflessione in questi primi due rischi in cui l'amore che si canta nelle canzoni è finto ma per forza di cose è finto il lui che canta non è Lucio Battisti è l'io della canzone quindi io avevo letto ti faccio una di piccola direzione musicale l'essi tanto tempo fa non l'ho più ritrovata ma una una citazione di frank zappa in cui diceva che la causa della grande mancanza di salute mentale degli americani è proprio nelle canzoni d'amore che ascoltano tutto il giorno e pensano che il mondo sia quello invece che il mondo reale bravissimo esattamente questo infatti quando Panella può scrivere versi l'intronata routine cioè questo di imbambirsi appesto a queste canzoni d'amore questo mondo ideale che non esiste per cui lì ha voluto smontare tutto questo gioco dire guarda che l'io che canta è un io così la lei spesso è soltanto uno specchio di questi sentimenti nemmeno esiste allora che hanno fatto Battisti e Panella hanno smontato il gioco e hanno dato dignità a delle figure femminili prendendo tre fonti letterali diverse che sono state muse ispiratrici oppure come proveremo personaggi secondari nemmeno nominati ma comunque sia presenti nei romanzi che poi prendono come come punto di riferimento e l'hanno portati ad essere fatta di spin off no protagonisti assoluti quindi vediamo tutti i fiori del male chiamiamoli così di Baudelaire dal punto di vista della donna che le ispirati sostanzialmente adesso passiamo invece a un altro ok che è Joyce che non è male anche questo diciamo io posso dire una cosa ci stanno in italia degli studiosi di Joyce anche giovani insomma dell'età nostra per intenderci anche un po più giovani che non si sono mai filati i Battisti perché dato che è commerciale è quello di acqua azzurra acqua chiara quindi e non si sono mai filati questo disco che è uno spin off dell'Ulisse di Joyce assolutamente invece in cosa succederà alla ragazza della regia la copertina è proprio questo perché viene ispirato appunto dall'Ulisse di Joyce e questa copertina ragazzi veramente cioè cosa succederà alla ragazza è veramente meraviglioso è veramente stato sai perché perché il protagonista dell'Ulisse si prendeva gli appunti certo si disegnava tipo comprare il sapone era c i s puntati si metteva in tasca e foglietta ecco capito quando poi dopo si atteggia qualcuno ad artista io vorrei ricordare esistono questi ok ma io me compreso nel senso che io dico faccio lo scrittore ho scritto tante cose carine sicuramente qualcosa di bello ma insomma poi ci sono gli strada destri e sono loro e abbiamo adesso la possibilità di ascoltare appunto questo incipit dell'Ulisse di Joyce si è il romanzo letto dal nostro Mirko e anche qui una donna protagonista poi ce la racconti statuario pingue back mulligan avanzò dal capo della scala reggendo una ciotola di schiuma per barba su cui erano posati in croce uno specchio e un rasoio una vestaglia gialla di scinta svolazzava lievemente alle sue spalle nell'aria mite del mattino resse alta la ciotola e intonò introibo ad altare dei fermatosi scruto giù nella buia scala chiocciola e gridò con voce rauca vieni su kinch vieni su gesuita tremebondo con atteggiamento solenne proseguì e salì sulla piazzola circolare di ritiro fatto dietro front benedisse tre volte con gravità la torre il territorio circostante e le montagne a risveglio quindi avvistato Stephen Daedalus si chinò verso di lui e tracciò rapide croci nell'aria gorgogliando con la gola e scuotendo la testa Stephen Daedalus infastidito e pieno di sonno appoggiò le braccia sulla sommità della scala e guardò con freddezza la scuoti gorgogliante faccia che lo benediceva di lunghezza equina e capelli chiari senza tonsura di venatura e tonalità quercia chiaro Buck Mulligan sbirciò un attimo sotto lo specchio e poi coprì destramente la ciotola in caserma marsch disse con voce severa e in tono da predicatore aggiunse questa infatti o cari diletti è l'autentica Cristina corpo anima sangue piaghe musica lenta per favore chiudiete gli occhi signori un momento quei corpuscoli bianchi presentano qualche problemino silenzio tutti gettò una sbirciatina verso l'alto di sguincio ed emise un lungo fischio lento di richiamo dopodiché fece una breve pausa in atteggiamento di attenzione rapita i bianchi denti regolari che baluginavano qua e là di puntolini dorati crisostomo due forti fischi laceranti risposero attraverso la calma grazie vecchio mio gridò in tono vivace va bene così togli la corrente per favore quindi anche qui una donna protagonista nell'ulisse di joyce era non ricordo più il nome milly milly e la figlia di leopold protagonista che lei non è presente nel romanzo esatto era per questo infatti una lettera che ha scritto a mamma e papà perché è andata a lavorare in uno studio fotografico sai sono tutti indizi ho trovato nella prima canzone comincia con un uomo che si fa la barba pensa a qualcuna che sta lavorando in uno studio fotografico cioè gli indizi l'hanno messi panella e battisti ma la cosa geniale è andare dico ma quale romanzo comincia uno si fa la barba poi insomma fatto stare poi quale romanzo è una giornata intera è l'ulisse di joyce e quindi da qui ho fatto questo gioco incastro e ho scoperto tutto la cosa geniale che è stato veramente bravissimo è stata una faticata assolutamente si è stata una gran faticata e è bello vedere come milly abbia le stesse problematiche del papà il papà è un ebreo convertito al cattolicesimo anche lei ha questa scissione così poi milly è promessa sposa insomma e sta cosa le sta qua e lei non vuole quando pensa ad andare no quando racconta che va la canzone si chiama per rinoceronte va pranzo per l'anello di fidanzamento lei si immagina che la stanno cuocendo in padella immagini molto la joyce quindi è geniale qui panella in assoluto penso il disco più geniale questo assolutamente sì però insomma le vendite sono sempre calate in italia non eravamo pronti probabilmente non si capiva non si perdeva neanche tempo cioè dice ma tu hai scritto i giardini di marzo perché deve metterti a scrivere queste cose non sono pronti qualcuno ho letto qualche critico e ancora gli andava dietro e riconosceva già all'epoca la sua genialità ma la maggior parte l'hanno stroncata anche in malo modo e poi c'è il quinto album che è hegel qui c'è una curiosità perché poi tutti si aspettano hegel quindi si aspettavano l'acca sul sulla copertina invece battisti mette la e però prescindere da questo è l'ultimo album è importante perché veramente l'ultimo nel senso che da lì a poco di lì a poco modirà e è un album che fa anche segnare la rottura comunque che lui aveva già programmato anche con panella ma ci sono insomma poi di leggendo anche la rottura col mondo perché poi lui probabilmente già sapeva insomma di essere malato ma non si è mai saputo neanche di che cosa sia morto effettivamente quindi figuriamoci però ecco questo è quello che è stato dice qualcosa di questo album in chiusura in chiusura ti dico questo intitolare un album hegel significa che non vuoi venderlo perché chi te lo compra per di più con una e in copertina che poi la spiego non è legata a hegel ma è legata a joyce vabbè insomma poi compratevelo così lo scoprite bravo perché c'è una invece di una esatto esattamente però la cosa interessante è questa volta vanno a pescare un romanzo epistolare che ha scritto holderlin e si intitola iperione e anche qui abbiamo un personaggio femminile di otima si chiamano questo iperione è un tedesco che va in grecia quando la grecia fine settecento era il mito dei tedeschi perché l'antica grecia così conosce questa di otima si innamora poi va a combattere contro i turchi perché quello è dallo scopo di questo viaggio torna e lei è morta quindi di fatto lei la conosce un giorno e lei gli appare come fantasma oppure come immagine mentale che poi nel disco la bellezza riunita la canzone e gli rivela il grande segreto della commissione uomo natura queste cose qua quindi di fatto di nuovo una donna usata per esprimere concetti e realizzata e lui la riscatta anche qua fanno un gioco più divertente quella realtà dove alla fine l'ultima canzone estetica racconta che tutto questo mondo di realizzare le cose così è finito di fatto è finito bisogna passare ad un'altra dimensione e questa la rottura infatti perché si dice no cioè lui comunque è finito devo tagliare devo mollare c'è chi dice che aveva già previsto la rottura con pannella poi in realtà purtroppo di fatto con pannella devono scrivere cinque album per dire una certa cosa e poi l'ho spiegato bene cioè era un progetto unitario l'hanno portato a termine per battisti si chiudeva quella fase se ne sarebbe aperto un'altra perché aveva 50 anni insomma quindi assolutamente per pannella idem perché pannella dopo andrà a fare notre dame de paris con cocciante quindi tutt'altro mondo sceglierà però battisti è stato purtroppo è morto poco dopo quindi è finita lì la sua parabola esatto quindi una cosa bellissima un libro bellissimo molto molta molta curiosità musica ma anche tanto altro filosofia storia riferimenti è un'opera che francesco veramente ha curato con grandissima attenzione è stato citato veramente da tante tante parti in italia e vale la pena perché è un nostro concittadino e comunque rende merito a noi e alla nostra città e quindi noi vi lasciamo con l'ultima lettura del bravissimo mirco perché è stato sicuramente eccezionale è l'ultimo contributo proprio tratto da iperione e vi salutiamo ok salutiamo i nostri telespettatori e come al solito diciamo se siete stati un po curiosi volete capire quello che c'è dietro tutto quello che noi abbiamo spiegato in una mezz'oretta andate e prendetevi il libro di francesco comprare velo grazie grazie a tutti e a tutte e buonanotte il mio iperione disse una voce venendomi incontro mi precipitai di otima la mia di otima e mi vennero meno la parola il respiro la coscienza fuggi fuggi vita mortale misera occupazione in cui lo spirito solitario guarda conta e riconta gli spiccioli che ha guadagnato noi siamo tutti chiamati alla gioia della divinità a questo punto c'è un buco nella mia memoria mi senti morire e quando mi risvegliai ero sul cuore della celeste fanciulla oh vita dell'amore che ti eri schiusa in lei in un bocciolo turgido e delizioso come come cullata in un lieve torpore da geni felici l'affascinante testolina era appoggiata alla mia spalla sorrideva in una dolce pace e alzava gli occhi eterei verso di me con una meraviglia lieta e inesperta come se guardasse proprio ora il mondo per la prima volta restammo così a lungo persi in soave contemplazione dimentichi di noi e di ciò che ci era intorno finché poi la gioia divenne eccessiva e la voce mi tornò con lacrime ed esclamazioni di delizia tanto da richiamare alla realtà anche la mia silenziosa innamorata infine ci guardammo intorno i miei vecchi alberi i miei amici disse di otima come se non li vedesse da molto tempo mentre il ricordo dei giorni trascorsi da sola si trasturlava con la sua gioia delizioso come l'ombra sulla neve immacolata che arrossisce scintilla nella gioiosa luce del tramonto angeli del cielo esclamai chi può comprenderti chi può dire di averti mai capita fino in fondo e anche la mia moglie di fare di averti mai